Un po' alla volta, dipendentemente dai finanziamenti che riceviamo, perché ovviamente la priorità è quella delle politiche sociali, della tenuta e della coesione di questa città in un momento di difficoltà economica che sta attanagliando imprese e famiglie, un po' alla volta mettiamo anche i soldi necessari per completare il nostro pieno delle opere. In questo caso parliamo del Parco delle Gheetti d'Orai, un'area verde particolarmente apprezzata dai cittadini, molto frequentata. Il tempo ha usurato e rovinato la pista ciclabile che è decisamente molto frequentata, rendendo necessario un intervento. Lo faremo, abbiamo investito 150 mila euro, il che consentirà sia ai pedoni ma soprattutto alle biciclette di poterla percorrere in sicurezza. Anche il tratto di asfalto che collega il parco alla parte esterna verrà rifatto in modo tale da garantire, ripeto, la massima incolumità tanto dei pedoni quanto dei ciclisti. Questo intervento rientra in un piano più ampio, che progressivamente i cittadini stanno vedendo, di sistemazione delle aree dei parchi, quindi sostituzione delle staccionate che sono rotte piuttosto che la sistemazione dei bagni o delle aiuole. Quindi quelli che sono i polmoni verdi molto utilizzati e molto frequentati dai cittadini, un po' alla volta verranno sistemati per rendere sempre più belli e sempre più ospitali.